Ai nastri di partenza due grandi appuntamenti dell'estate musicale Aretina, tornano infatti Terre d'Arezzo Music Festival, la manifestazione dedicata alla musica classica e non solo e Arezzo Organ Festival, l'iniziativa che vede come protagonista la musica organistica con concerti nelle chiese più importanti della città. Siamo al via con l'edizione numero 5 dell'Arezzo Organ Festival, il festival dedicato alla musica d'organo nella città di Arezzo che è anche una parte, una sezione importante di Terre d'Arezzo Music Festival, un festival molto più ampio che coinvolge tutta la provincia che arriva quest'anno alla sua tredicesima edizione. Un cartellone di altissimo livello qui nella città di Arezzo dedicato all'organo con la partecipazione di artisti grandissimi come l'organista Juan Paradel Sole, l'organista titolare della Cappella Pontificia Sistina in Vaticano, e poi la partecipazione di Guy Tuvron, uno dei più grandi trombettisti del mondo e l'organista della cattedrale di Lausanna in Svizzera, quindi festival dedicato all'organo ai massimi livelli, unitamente quest'anno anche a una nuova iniziativa dedicata al pianoforte, international piano masterclass, una settimana di masterclass internazionale di perfezionamento presso la Casa della Musica di Arezzo dal 14 al 21 di luglio. Abbiamo deciso di puntare non solo sulla grande musica ma anche su un percorso di avvicinamento alla formazione musicale, non si crea pubblico se non si crea formazione, non è possibile pensare di far planare dall'alte iniziative di grandissima qualità senza predisporre la città e i cittadini ad essere i recettori primari, quindi la straordinarietà dell'organ festival non è soltanto nella sua forza strettamente culturale che ha intercettato quindi anche immediatamente l'interesse della Fondazione Cultura, ma è anche, direi questa sì in maniera molto particolare, la forza di aver deciso di fare questo grande investimento sulla formazione musicale.